Dobbiamo essere capaci di fare comunità. Ognuno di noi può dare il suo contributo per vivere in armonia nella città. Bisogna partire dalla passione per il comune destino, che è alla base dell'impegno per la comunità. Non si può governare una città pensando di possederla. Occorre invece umiltà per mettersi in cammino tra diverse realtà, culture ed esperienze. L'aggregazione e la collaborazione sono i passi necessari per sostenere nuove richieste, affrontare una nuova partenza e una nuova costruzione.